sono donatella bartolomei e vado avanti con la presentazione dei miei corsi ho fatto già un ciclo di registrazioni nei giorni passati e ora vado avanti non è non sono presentazioni di corsi specifici nel senso che iniziano quel giorno in quel luogo in quell'orario sono presentazioni generiche dei miei corsi poi per chi desidera informazioni dove stanno partendo dove possono essere attuati se c'è la possibilità di organizzarmi di nuovi in un tal posto contattatemi e trovate qua sotto alla registrazione del video tutti i dati relativi al mio telefono e alla mia mail allora il primo di questo ciclo di video è stato proprio sui corsi di teatro però quello era nello specifico sui corsi di teatro per adulti mentre invece qui parlerò dei miei corsi di teatro per ragazzi cosa si intende per ragazzi allora specifico che anche se l'ho fatto però io parecchi anni fa io non faccio corsi per bambini non è il mio ambito quindi se voi avete siete alla ricerca di un laboratorio teatrale per bambini non sono io la persona da contattare perché non sono una tuttologa già mi occupo di svariate materie che mi appartengono però nello specifico preferisco occuparmi dei settori diciamo così di cui ho competenza corsi di teatro per ragazzi sono corsi di teatro che possono essere organizzati per ragazzi delle scuole superiori per ragazzi e adulti divido fra minorenni e maggiorenni nel senso i miei corsi per adulti sono diretti alle persone che hanno dai 18 anni in su senza limiti d'età il mondo adulti è un mondo unico ok mentre invece il mondo ragazzi parla ovviamente di minorenni quindi o per diciamo la fascia dei ragazzi delle scuole superiori o per la fascia dei ragazzi delle scuole medie la metodologia mia di lavoro è la stessa quindi ora non starò a rispiegare tutto il mio mondo didattico creativo e artistico per quanto riguarda il teatro vi invito andare a cercare il primo video di cui metterò link anche in questa stessa descrizione per chi volesse essere facilitato nel trovarlo per avere una diciamo idea di quello che è il mio mondo creativo e il mio mondo didattico a livello di corsi di teatro nello specifico qui entrerò in quella che può essere la didattica per i ragazzi allora parto dagli stessi presupposti che sono presupposti comunque sia creativi che sono presupposti che puntano allo sviluppo della creatività non è un modo di lavorare schematico è un modo di lavorare che punta sempre lo sviluppo appunto delle delle doti creative dei talenti di chi partecipa a questi corsi ovviamente poi adeguati a quello che può essere il settore diciamo così di allievi ragazzi ok nello specifico i corsi poi possono avere una durata più breve più lunga questo questo dipende ovviamente da da dove da chi e come sono organizzati per quanto riguarda gli obiettivi come dicevo l'obiettivo del lavoro teatrale è sempre quello di entrare nell'animo umano e quindi sondare tutta la gamma delle emozioni ovviamente non lo nascondo è ovvio almeno dal mio punto di vista che nel mondo adulti c'è una maggiore come dire apertura proprio a 360 gradi su quello che è il mondo delle emozioni dei vissuti per quanto riguarda il settore ragazzi ci sono così delle scelte che si fanno ovviamente perché si sta parlando comunque di persone minorenne si sta parlando di persone che sono in formazione in crescita e quindi c'è un'attenzione diciamo particolare a quello che è diciamo così lo specifico dell'utenza di quel tipo di di quel tipo di corso si lavora sempre sul training faccio tantissimo lavoro di training soprattutto soprattutto sia con gli adulti che coi ragazzi ma nel modo specifico coi ragazzi lavoro sul training è ancora più è ancora maggiormente favorito training che cosa significa lavoro con la musica il linguaggio corporeo il lavoro l'uso dello spazio il gioco infatti una cosa che è fondamentale in tutti questi corsi come ho già detto nell'altro mio video è la formazione la creazione di un gruppo di lavoro affiatato e dove le persone stesse si sentano assolutamente a proprio aio come ho già detto in quel video non si pratica il giudizio nel senso di giudizio giudicante ogni persona deve essere a suo agio e deve potersi esprimere nel modo più libero creativo e sereno possibile quindi si deve creare un gruppo di lavoro compatto dove si parte in qualche modo assieme per una entusiasmante bella esperienza ovviamente c'è anche il lavoro sull'improvvisazione teatrale che una tecnica che io uso tantissimo così come ci sarà assolutamente l'approccio al testo al testo teatrale ma anche al testo poetico ma anche un testo scritto scelto dall'utente stesso però quello verrà più avanti prima ci si lascia andare prima si torna in qualche modo bambini si gioca ci si libera si in qualche modo ci si lasciano libere le proprie capacità creative senza subito l'uso della parola che è quella che se non gestita in un modo consapevole e tranquillo è quella che più blocca e fa lavorare tutto in testa ecco ok ovviamente si creano degli spettacoli spettacoli di saggio come nei corsi per adulti esattamente la stessa cosa è difficile poter spiegare in un breve video per chi non ha fatto non fa questa esperienza che cosa si va a fare esattamente ma quello che mi interessa far passare come messaggio è che c'è assolutamente l'attenzione allo sviluppo dei talenti della persona e c'è una grande attenzione verso l'individuo parliamo di corsi collettivi sono corsi che si fanno in gruppo l'energia le esperienze degli altri il gioco con gli altri il lavoro con gli altri sono fondamentali però c'è sempre continuamente una grandissima attenzione al singolo quindi non sono mai gruppi grandi non sono mai gruppi di 20 30 persone piuttosto si fanno più classi ok io mi fermo qui perché volevo solo dare degli accenni degli spunti perché il mondo teatrale per i ragazzi venga visto davvero come una grande opportunità un'opportunità di espressione un'opportunità di autenticità perché il lavoro è sempre puntato sull'autenticità non sul far finta di ecco il presupposto che vale per tutti che siano adulti o siano ragazzi è il volersi mettere in gioco è fondamentale mettersi in gioco se c'è la voglia di mettersi in gioco liberamente con serenità e tranquillità nel rispetto di tutti allora è il luogo giusto dove creare un ambiente protetto proprio per la creazione di un lavoro soddisfacente se non c'è la volontà di mettersi in gioco ovviamente non è l'attività giusta per quella persona insomma perché ovviamente si lavora in modo attivo non è un lavoro che si fa seduti con carta e penna seduti dietro un banco è un lavoro dinamico di movimento di gioco di creazione di personaggi laddove questi personaggi sono più possibile autentici e veri benissimo allora per chi volesse informazioni mi contatti liberamente i corsi di teatro per ragazzi ovviamente sono proponibili soltanto in presenza non sono corsi online io lavoro e propongo i miei percorsi nelle zone e nelle province di milano di novara e di varese posso portare le mie proposte anche altrove anche come seminari può essere anche un seminario di una sola giornata o di pochi incontri quindi accetto assolutamente proposte anche di trasferta come ho già anche fatto per per vari dei miei dei miei percorsi sia formativi che esperienziali e nulla io io vi lascio a contattarmi a questo punto per chi fosse interessato e ci facciamo una chiacchierata e vediamo dove come possibile portare avanti il discorso del corso di teatro per ragazzi grazie